Che partita ragazzi, che partita il derby di Roma, che partita Finisce appunto 1-1 questo derby di Roma, il 151esimo derby della capitale Ben ritrovati amici di Molino Sport Channel ad un nuovo post partita di Serie A Oggi trattiamo il derby della capitale che è appunto l'anticipo di questa domenica di Serie A Derby che parte subito in un primo tempo spettacolare In cui appunto ci sono stati tre traverse, tre pali in sé Per la Lazio, due per la Roma Il primo palo di Lucas Leyva Secondo, a tu per tu col portiere, Immobile prende l'incoscio dei pali Subito dopo Correa, sì Correa, sì, stampa sul palo, tira sul palo Subito dopo appunto questi tre pali Appunto la Roma non mi ricordo con chi li ha presi, non ho idea Milinkovic su un cross di Florenzi, non lo so È stupido, allarga la mano in aria, il rigore è giustissimo Che Colarov non sbaglia, implacabile Cioè contro il fantacalcio, grande, questa giornata è proprio la merda Appunto porta i capitolini con l'ex, esulta proprio Colarov proprio Vuole esultare, ok Porta i capitolini che appunto dopo un primo tempo Ho giocato secondo me Secondo me la Roma poteva anche Cioè ha giocato anche un po' peggio, ha giocato peggio della Lazio Quindi secondo me mi dava, almeno il primo tempo doveva finire il pareggio minimo Per me anche il fantaccio della Lazio Perché la Roma ha giocato ok bene in fase offensiva Ma di più il premio del gioco ce l'ha avuto la Lazio Nel mio punto di vista Il secondo tempo invece I primi tipo 20 minuti hanno giocato abbastanza A ritmi un po' bassi Poi erano con i vari cambi Fatti appunto dai due allenatori La Roma trova il vantaggio con Joachim Correa Su assi di immobile Grabe il gol Pareggio meritato Perché proprio come fine la partita appunto Il pareggio è probabilmente più meritato Nel secondo tempo la Lazio prende un altro palo Con Correa No no no, Parolo Che c'è E ovviamente arrivano sul fondo Scaricano all'indietro Parolo Mentre con tutta la porta aperta Lancia sulla traversa Non c'è sorta La Lazio appunto Mi dava il pareggio E se non ha anche una vittoria Comunque E si vede appunto che la squadra di Inzaghi Ha un gioco molto più rodato Rispetto a quello di Fonseca Che ancora è acerbo Comunque A Lazio in tutto questo si è mangiato anche Vario un gol appunto Con la palla che gli imbalza davanti A tu per tu Di destra Colpisce al lato Poi appunto viene allungato un gol Giustissimo In un di recupero A Lazio Sì a Lazio Perché appunto Correa Si allunga la palla Johnny che era Fuori gioco Colpisce la palla Che era addirittura anche fuori E poi gli mette in mezzo Che quando ormai Scusate Quando ormai Cioè E Lazari La insaccherete Ma ormai appunto Era irregolare Proprio Due irregolari Da c'erano Comunque Questo torino di Roma Afferma appunto Il partito della Roma Di due punti Della Lazio Sulla Roma E vabbè Ancora siamo all'inizio Quindi Buono A posto Ci vedremo stasera Per le altre partite Della serata appunto Con Cagliari-Roma Genova-Fiorentina Udinese-Parma Lecce-Verona E le altre Non mi ricordo Precisamente Quali altre partite Ci sono Comunque Like, commento, iscrizione E non perdete altri nostri video Campanellina Paginalista Malinio Sport Ciao